Benvenuti su Meteo Giuliaci, il tempo previsto per giovedì. Ebbene, dopo la breve parentesi invernale, soprattutto sul nord Italia, sulla penisola si è allungato l'anticiclone delle Azorre, quindi bel tempo su tutta l'Italia, eccetera, delle piogge residue sulle isole maggiore, delle nuvole al sud, ma attenzione, l'alta pressione riporterà in folta schiera le nebbie nella pianura padano-veneta, nelle valle del centro. Le temperature saranno in rialzo. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.